E' iniziato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'incontro tra il Ministro del Rio e i sindacati sulla difficile vertenza dei 400 esuberi al porto di Gioia Tauro. Al vertice hanno preso parte il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, e anche il governatore della Calabria, Mario Oliverio. L'incontro tra le parti è ancora in corso. E su questo difficile contesto interviene il senatore dei Cinque Stelle, Nicola Morra, con una nota durissima. I 400 licenziamenti che potrebbero interessare gli operai del porto di Gioia Tauro, scrive il parlamentare Grillino, e l'incredibile silenzio della vicenda della coppia Gentiloni-Renzi potrebbe far pensare a un favore alla triade della Piana, le ben note cosche e molepi romalli pesce che all'indebolimento economico della Calabria potrebbero ricavare ampi vantaggi. Dichiarazioni durissime che sono scaturite da un incontro con una delegazione di operai del sindacato autonomo Sul presso il porto calabrese, oggetto di una difficile vertenza e di uno sciopero che si sta protraendo ormai da sei giorni. Non solo c'è una palese incapacità politica del governo di affrontare la vicenda simbolizzata dalla mancata nomina dell'autorità portuale, dice il senatore, ma anche una mancata nomina che di fatto indebolisce ulteriormente il porto di Gioia Tauro, concentrando tutta l'influenza sull'operatore monopolista MCT. Il parlamentare sostiene che esiste una gravissima carenza informativa, visto che il Tg1 di Mario Orfeo ha parlato solo della vicenda per criminalizzare gli operai sostenendo che il blocco della Salerno-Reggio Calabria da parte dei lavoratori venerdì scorso sarebbe durato tre ore. Povero partito, striglia il parlamentare, da che ordina il proprio Tg di trattare i lavoratori calabresi alla stregua dei dranghetisti invece di aiutarli a uscire da una crisi senza precedenti. Nel frattempo i lavoratori del porto di Gioia Tauro hanno rivolto un appello alle istituzioni e a Papa Francesco affinché vengano tutelati 400 posti di lavoro a rischio, una situazione quella della struttura calabrese che da tempo preoccupa i lavoratori e le loro famiglie e che non accenna a risolversi. La loro richiesta d'aiuto è stata raccontata dal massmediologo Klaus Davi che in collaborazione con diversi sindacati come la CGL, la CISL, la Will Transporti, l'UGL Mare e il SUL ha realizzato un video che sarà parte di un documentario in cui si racconta l'avvertenza che vede contrappoposta l'azienda MCT e gli operai e potrebbe culminare con centinaia di licenziamenti.